Un saluto a tutti. Ritorno via su Dragon Ball dopo molto tempo. Come sapete a fine anno uscirà un film su Dragon Ball come sequel di D.B. Super. Questa teoria l'avrei dovuta formulare tempo fa, però ogni è venuta in mente solo ora. Tempo fa su YouTube si discuteva dei 18 universi originari. Come ben sapete durante la serie Super gli universi erano 12. Ma ognuno degli universi aveva un suo gemello, quindi c'erano 6 coppie di universi gemelli. Ma ognuno degli universi aveva un suo gemello, quindi c'erano 6 coppie di universi gemelli. Che era il numero di tutti gli universi più 1, cioè il multiverso che contiene tutti gli universi. Se gli universi in origine erano 18, allora che fine facevano le coppie di gemelli con i rispettivi numeri? Innanzitutto, avete notato che 18 è uguale a 6 per 3? Cioè, 6 universi sono stati cancellati, le altre 6 coppie sono sopravvissute. E se per assurdo gli universi gemelli erano 3? I 18 universi sarebbero stati suddivisi in 6 gruppi da 3. Se ognuno di essi non fosse stato gemello di altri 2 universi ci dovremmo chiedere e spiegare perché 6 universi avrebbero avuto un gemello, in totale 12, e gli altri 6 invece no. La numerazione sarebbe stata diversa ovviamente. La cosa che ci interessa ora è che se quel Saiyan che appare nel trailer se non è Amoshi potrebbe provenire dal terzo gemello dell'universo 6 e 7 che conosciamo noi. Cioè, se in origine gli universi erano 18, di cui 6 cancellati, semmai il drago avesse ripristinato anche quelli tramite il desiderio di C, 17? E se fossero stati divisi in 6 gruppi da 3 gemelli, significa che l'universo 6 e 7 avrebbero avuto un altro universo gemello? Il quale teoricamente avrebbe potuto ospitare altri Saiyan. Questa teoria ovviamente si basa su dei presupposti deboli, cioè l'idea seconda cui siano stati ripristinati tutti gli universi cancellati da Zeno. E non solo quelli che ha cancellato durante il torneo, inoltre dovrebbe essere vero che gli universi cancellati in passato da Zeno fossero stati gemelli di quelli superstiti? Visto che erano 6 e che quindi le coppie di gemelli in origine erano 3 e che quindi tra questi 6 universi ce ne fosse stato uno che ospitava dei Saiyan. E' una teoria contorta ma ho cercato di spiegare perché potrebbe essere verosimile. Chissà, quando uscirà il film vedremo se ho avuto ragione. Per il momento questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a seguirmi e a lasciare like, perché se tutto va bene nel canale ci sarà finalmente una svolta. Non vi dico altro, restate connessi. Alla prossima!